SIC Frigoriferi industriali. Soluzioni all'avanguardia. Nella refrigerazione industriale. I sindaci della Romagna sono letteralmente infuriati con il governo sui fondi per le periferie. Dopo l'incontro con Conte nessun provvedimento è stato al momento attuato. Lucchi scrive nuovamente al Premier mentre Gnassi annuncia una dura battaglia legale. Prosegue intanto nella nostra regione la crisi dell'ex Breda Mennerini Bus di Bologna. Sindacati e lavoratori lamentano la mancata corresponsione degli stipendi. Prende posizione anche il presidente Bonaccini che accusa il ministro Di Maio di non fare nulla. È stato il premio Nobel Eric Maskin, l'ospite d'eccezione a Cesena nell'edizione 2018 di Fattore R. Il forum organizzato da Fiera e Confindustria che fa il punto della situazione sulla Romagna. Servono ingegneri. Questo è emerso durante il dibattito. Proseguono a Forlì gli eventi della settimana del Buon Vivere. In tanti hanno seguito l'incontro con il maestro siciliano Fernando Scianna che ha presentato oltre 200 scatti fotografici che inquadrano il viaggio, il racconto e la memoria. La mostra resterà aperta fino a 6 gennaio. Ottimi numeri a Faenza per Argilla 2018. La grande manifestazione dedicata alla ceramica e non solo ha fatto registrare un indotto complessivo di oltre 800.000 euro con strutture ricettive sostanzialmente al completo. Un bilancio nettamente migliore rispetto all'edizione di due anni fa. E infine lo sport, il beach soccer. L'Italia è tornata a primeggiare in Europa grazie al successo ottenuto contro la Spagna. Per la Nazionale Azzurra si chiude un percorso di crescita durato 13 anni che lascia aperte speranze di podio anche a livello mondiale. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. E a voi tutti ancora una volta buonasera dalla redazione. In apertura parliamo di quella che da molti viene definita una vera e propria giravolta del governo sul tema dei fondi per il bando periferia. Ad una settimana dalla promessa di un decreto ad hoc dall'esecutivo al momento tutto tace. Intanto si fanno sentire i sindaci della Romagna, primo fra tutti Paolo Lucchi. Che fine ha fatto l'annunciato decreto che avrebbe sbloccato i fondi del bando periferie? Com'è possibile che il capo del governo si rimangi l'impegno assunto appena una settimana fa? Quali i motivi di questo volta faccia? Sono queste le domande che il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, ha rivolto a Giuseppe Conte con una lettera infocata nel quale il primo cittadino ha mosso pesanti accuse contro l'attuale governo sono responsabile di aver annullato i fondi destinati alle tre piazze ponendo la fiducia alla Camera sul decreto mille proroghe. Nodo della discordia, le parole del Premier che prima del voto aveva promesso di varare entro pochi giorni un decreto ad hoc che avrebbe fatto ripartire i finanziamenti. Un provvedimento di cui tuttavia non si è più sentito parlare. In ballo ci sono 1,8 milioni di euro attesi da Roma per il progetto delle tre piazze un intervento da 3,3 milioni in totale per il quale il Comune ha già preso le sue contromosse rivolgendosi alla Regione che potrebbe mettere una pezza nel bilancio dei lavori per un valore di un milione e mezzo. Sistemato il problema dei fondi per l'apertura del cantiere rimane però l'amarezza di fronte alla promessa non mantenuta. Non è un modo serio di lavorare attacca Lucchi e nemmeno rispettoso di chi ogni giorno amministra le proprie comunità. Avere la certezza che il capo del governo possa cambiare idea così rapidamente su una propria promessa senza nemmeno spiegare il perché è quantomeno poco rassicurante. E intanto su questo tema si fa sentire ancora una volta anche il sindaco di Rimini Andrea Agnassi che annuncia una dura battaglia legale per ottenere questi fondi. Intanto in un quartiere periferico della città, non coinvolto dai bandi, è stata inaugurata una nuova struttura sportiva. Per una periferia al palo ce n'è un'altra che cresce. Mentre su Rimini Nord il sindaco Agnassi ha mosso guerra al governo, il quartiere di Villaggio Primo Maggio si arricchisce di una nuova struttura, la Casa del Volley, inaugurata dal presidente del CONI Giovanni Malagò. Questo è quasi un modello e anche questa inaugurazione di Casa Volley è una dimostrazione di quando le amministrazioni locali funzionano e la sinergia col CONI perché noi abbiamo tanti impianti di sport e periferie che sono assolutamente inchiodati e non riescono ad andare avanti perché purtroppo non si firmano le convenzioni, le conferenze di servizio non vanno avanti, i pezzi di carta non sono a posto, la burocrazia non viene sistemata. Invece qui a tempo record abbiamo fatto il nostro dovere e devo dire complimenti. Sul fronte e bando periferie Agnassi ha il dente avvelenato. Dopo l'impegno preso dal Premier Conte nelle ripristinare i fondi si dice deluso da quanto deciso nella conferenza unificata. Le regioni erano disponibili, ieri c'è stato questo passaggio, hanno tolto all'ordine del giorno la possibilità di recuperare le periferie. Ancora non c'è quell'impegno che il Premier Conte si è impegnato a fare, il decreto per ridare i soldi ai comuni per le periferie. Che cosa farà? Al governo chiediamo di rispettare gli impegni. Lo Stato non può tradire lo Stato, quindi noi come Rimini e come altri comuni avvieremo i ricorsi nei tribunali amministrativi e la Corte Costituzionale. Guardate che vinceremo perché abbiamo ragione. Abbiamo firmato una convenzione, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Sono accusati di aver gestito diverse società cooperative con cui reclutavano decine di lavoratori destinati al settore agricolo, i quali venivano impiegati in condizioni di sfruttamento con una paga oraria anche di soli 3 euro. Per questo motivo sono stati arrestati a Forlì tre uomini di nazionalità marocchina, l'accusa per loro è di caporalato. Dalle indagini è emerso che le vittime dello sfruttamento venivano fatte lavorare anche 14 ore al giorno in condizioni climatiche difficili e senza alcun accorgimento in tema di salute e sicurezza. Oltre alla custodia cautelare per i tre responsabili, il giudice per le indagini preliminari ha disposto anche il sequestro di diversi mezzi utilizzati per trasportare i lavoratori. Tra gli indagati ci sono anche due imprenditori locali per i quali saranno accertate le eventuali responsabilità. Altri due spacciatori arrestati dai carabinieri nell'ambito dell'indagine Free Park contro lo spaccio nei parchi cittadini di Rimini in Manette. Finiscono un trentenne e un ventitreenne, entrambi cittadini nigeriani, già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti. I due giovani sono stati rintracciati presso l'abitazione di un conoscente in zona in a casa e sottoposti a perquisizione personale e domiciliare eseguita con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro. I due possedevano vari involucri in cellofan contenenti complessivamente 115 grammi di marijuana occultati in diversi punti della stanza da letto a loro uso all'interno dell'appartamento. Il loro possesso ha anche due bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza e la somma contante di 300 euro, ritenuta a provento della progressatività illecita e pertanto sottoposta a sequestro. E ora parliamo della situazione della ex Breda Menarini Bus. Non arrivano ancora gli stipendi, si fa sentire il presidente della regione Stefano Bonaccini. Resta incerto il futuro degli operai della ex Breda Menarini Bus, la storica azienda bolognese produttrice di autobus confluita con l'ex Iris Bus in industria italiana autobus. Sul punto è tornato il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che a seguito del tavolo di confronto a cui nello scorso agosto hanno preso parte il ministro Luigi Di Maio, le sigle sindacali e l'assessore Marco Lombardo in rappresentanza del Comune di Bologna, ha precisato di non aver avvisato sino ad oggi alcun passo in avanti da parte del governo. Dovevano arrivare gli stipendi e gli stipendi a detta degli stessi lavoratori dei sindacati di rappresentanza non sono arrivati, tant'è che si annuncia persino un possibile sciopero per lunedì. La convocazione di un tavolo che ci era stato garantito interistituzionale a cui invitare anche la regione, il Comune di Bologna, non è stato minimamente convocato e verrebbe da dire che le uniche cose concrete le sta facendo la regione Emilia Romagna insieme al territorio, il Comune Bolognese. La situazione dell'industria italiana autobus si trascina da oltre quattro anni. Negli stabilimenti di Bologna e della provincia di Avellino i lavoratori non sono affatto rientrati tutti in fabbrica e l'azienda, di proprietà del gruppo Del Rosso e Finmeccanica, langue in una situazione di incertezza finanziaria nonostante le commesse non manchino. Il 24 agosto il ministro Luigi Di Maio aveva scritto di essere vicino ai lavoratori, garantendo che il governo sta lavorando a pieno regime per individuare la soluzione industriale migliore. Proprio al vice premier si appella il governatore della regione. Non ci interessa la disputa politica, ci interessa che l'azienda, l'ex Breda Menarini, industria italiana autobus, abbia un futuro e abbia un futuro non solo per i prossimi mesi, ma abbia un futuro per i prossimi anni. Ancora cronaca con il nostro portale tr24.it. Una bimba di soli 7 anni è morta ieri sera a Forlì. A causa si ipotizza di un improvviso malore di origine cardiaca. La piccola attorno alle 22 di ieri stava giocando con alcuni amichetti nella casa di famiglia nella frazione di San Martino di Villa Franca quando si è accasciata a terra. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, i quali hanno tentato a lungo ogni pratica di rianimazione, ma tutto è risultato vano. Un cacciatore ultra sessantenne residente nella Repubblica di San Marino ha sparato, convinto di colpire una lepre, ma ha invece impallinato tre braccianti agricoli che stavano raccogliendo kiwi nelle campagne faentine. L'uomo non si sarebbe accorto di aver ferito gli uomini che subito dopo l'accaduto hanno chiamato i carabinieri e si sono recati al pronto soccorso dove hanno ricevuto cure con prognosi fino ad una settimana. Per il cacciatore la battuta si è rivelata ulteriormente dannosa visto che dalle verifiche dell'arma è emerso che non aveva compilato l'apposito tesserino regionale e non aveva recuperato i bossoli dei colpi sparati. Immediato per lui il ritiro di licenza e del fucile in attesa delle necessarie verifiche della situazione. E si è tenuto ieri a Cesena a Fattore R il forum sull'economia della Romagna organizzato dalla Fiera e Confindustria, ospite d'eccezione quest'anno il premio Nobel Eric Maschin. In Romagna mancano ingegneri e figure tecniche specializzate. Questo è uno dei problemi principali individuato da imprenditori e studiosi in occasione di Fattore R il forum dedicato all'economia che si tiene a Cesena giunto alla sua seconda edizione e arricchito quest'anno dalla presenza del premio Nobel Eric Maschin. Il primo a lanciare l'allarme è stato Alberto Rosa, responsabile dell'osservatorio Ernest Young, che si è occupato di realizzare un'indagine su vizi e virtù del sistema economico romagnolo intervistando diversi imprenditori del territorio. Quello che è emerso è fondamentalmente un forte orgoglio ancora di essere romagnoli, di fare impresa, una grande voglia di fare sistema, ma una consapevolezza che mancano le risorse specializzate necessarie per poter competere in questo mercato. Fanno fatica a trovare le persone che servono, soprattutto tecnologia, ingegneri e io aggiungo, anche se non è da tutti sentito in modo particolare, anche le soft skills che sono le competenze soft, quindi il saper comunicare, il saper fare squadra e il saper negoziare. Sono qualità fondamentali per poter vincere la sfida competitiva globale. L'economia locale è importantissima e ogni regione si deve concentrare sulle attività che riesce a fare meglio. Se pensiamo al mondo prima della globalizzazione, ogni regione doveva cercare di dare il meglio per tutte le attività economiche. Ora possiamo ottenere beni e servizi da tutto il mondo e proprio per questo è importante che ogni regione quindi si focalizzi su ciò che riesce a fare nel migliore dei modi. Oltre 200 scatti che inquadrano il viaggio, il racconto e la memoria. Il maestro siciliano Fernando Scianna inaugura la Settimana del Buon Vivere con una mostra che resterà aperta fino al 6 gennaio prossimo al Museo San Domenico di Forlì. Sentiamo il nostro inviato. La nona edizione della Settimana del Buon Vivere inizia con il botto dovuto all'evento della grande antologia, la grande mostra del maestro siciliano Ferdinando Scianna che attraverso ben 200 scatti racconta la memoria, il viaggio e appunto anche il racconto, il racconto dei luoghi che è il tema centrale proprio di questa settimana. La fotografia vive un'epoca sulla quale io ho delle difficoltà a esprimere opinione perché io vengo dall'altro secolo che era abbastanza vicino diciamo al tempo in cui è stata inventata e si è sviluppata. Io credo che intorno alla fotografia ci sono stati cambiamenti come in quasi nessun altro strumento di comunicazione. Oggi si calcola che esistono più telefonini di quanto ci siano abitanti sulla terra perché alcuni ne hanno più di uno e ci sono dei paesi dove nessuno ce l'ha e che si fanno ogni giorno, quindi oggi rispetto a ieri, già ieri rispetto all'altro ieri più fotografie di quante non siano state fatte dall'invenzione della fotografia ad oggi. Nel corso della serata a lui dedicata il maestro siciliano ha chiarito che da bambino cercava una via di fuga dall'ordinario e quando ebbe in regalo una macchina fotografica a soli 15 anni capì che con quello strumento avrebbe potuto viaggiare andando oltre le mura popolose di Bagheria. La fotografia è nata come un grande ponte tra noi e la realtà e quindi tu comunichi la realtà, comunichi quindi i tuoi sentimenti, le tue idee sulla realtà eccetera. Ma se questo ponte è diventato un muro tra noi e la realtà per cui è più importante l'immagine della cosa che cosa comunichi se non il rumore di fondo? Il bilancio di Argilla è più che positivo. Oltre 800 mila euro è infatti il valore dell'indotto creato dalla manifestazione. Strutture ricettive piene, esercizi commerciali soddisfatti e un giudizio complessivo del pubblico e degli operatori che raggiunge un punteggio di 8.6 su 10. Abbiamo dei risultati straordinari. Il giudizio medio che danno all'organizzazione dell'evento è tra gli 8 e 9.5 su 10. Gli artigiani che avevano le nostre bancarelle che avevano detto di avere incassato, per dare un esempio, 1500 euro a bancarella nel 2016, quest'anno hanno detto che sono sopra i 2.400 euro. Le camere, degli alberghi, i bari, i ristoranti, i bed and breakfast e gli agriturismi hanno raccolto percentuali maggiori rispetto a ciò che era accaduto un anno fa e due anni fa a due cifre, spesso oltre il 20-30%. L'indotto generato sull'economia della città è impressionante, emerge da questa indagine che sono moltissimi cittadini da tutto il mondo che sono venuti a Frenza per la prima volta in quell'occasione e sono moltissimi i clienti nuovi delle aziende sia di ristorazione, turismo, alberghi sia delle nostre botteghe. Questi sono visitatori che sono venuti per la prima volta, sono stati nuovi clienti, hanno giudicato con voti attorno al 9,5% l'esito e la proposta di Argillà. Questo significa che le ricadute saranno e si manifesteranno giorno dopo giorno. Il teatro Diego Fabri di Forlì ha ospitato la serata benefica a sfondo musicale Music for Love. Sentiamo. Music for Love E questa tappa è sostenuta proprio dalla vostra azienda. Perché tale scelta? Perché intanto c'è un'amicizia profonda che mi lega a Franco da almeno 18 anni, per cui quando la sua passione sposa delle cause come questa è impossibile non seguirlo, non essere travolti e soprattutto non essere coinvolti in un'azione come questa, per cui la musica che fa rumore come noi, la musica che unisce la passione di tutti quanti e che fa del bene, quindi direi che è il numero sultra. L'intero ricavato del concerto di Forlì andrà alla fondazione Fabrizio Meoni Onlus, come abbiamo fatto praticamente nel 90% delle situazioni. La fondazione Fabrizio Meoni Onlus si occupa molto di Africa, perché comunque Fabrizio Dakar, la Parigi Dakar è comunque il fondamento. Ciò non toglie che ci siamo occupati proprio ieri a Roma dell'associazione Peter Pan, che è un'associazione che accoglie le famiglie di bambini malati di tumore che vanno a farle cure all'ospedale Bambin Gesù. Ci siamo occupati con qualche piccola difficoltà anche di sostenere il post terremoto l'anno scorso. La fondazione Fabrizio Meoni e Music for Love si vogliono dedicare ai bambini. Bambini sono il nostro futuro, dovrebbero essere il nostro investimento e quindi investiamo su di loro senza nessuna differenza per quanto ci riguarda di etnia, di razza e altro. Grandi nomi invece a Ravenna per la Notte d'Oro 2018. Anche quest'anno la Notte d'Oro a Ravenna raddoppia, con un'anteprima venerdì 5 in Darsena con la Notte d'Oro off e la Notte d'Oro vera e propria in Piazza del Popolo sabato 6 con il cantante Lorenzo Fragola. La stessa sera al Teatro Alighieri, Valerio Massimo Manfredi parlerà di Classis e la Marina Militare dell'Impero, anticipazione dell'apertura a dicembre del museo Sito nell'ex zuccherificio di classe. Abbiamo raddoppiato anche quest'anno con la Notte d'Oro off che comincerà venerdì. Il primo esperimento dell'anno scorso è andato molto bene, tanto da meritare anche un finanziamento di un progetto europeo come miglior esempio di rigenerazione temporanea di un luogo all'interno della città. Quindi abbiamo, grazie a questo finanziamento, potuto fare un bando con una giuria, con una commissione di livello europeo che ha valutato, ha selezionato tre performance size specific che si svolgeranno all'interno della Darsena venerdì. Ovviamente oltre a queste ci sarà tanto altro e vi invito ad andare a vedere il programma. Invece la Notte d'Oro, così come la conosciamo, la festa della nostra città dove i siti culturali, il commercio, l'artigianato danno il meglio di sé in quella serata nell'offerta che metteranno a disposizione i cittadini e i turisti. A parte il concerto di Lorenzo Fragola, gli appuntamenti saranno diversi. Cominceremo anche a parlare del progetto di Classis con un talk tra il professor Sassatelli e Valerio Massimo Manfredi all'interno del teatro Alighieri, del ridotto del teatro Alighieri e poi tante visite guidate. Altre notizie con le nostre brevi. Cattolica I carabinieri hanno arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 35enne in possesso di quasi 8 grammi di eroina, un bilancino di precisione e 100 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. Cesena L'amministrazione comunale avvierà a breve l'utilizzo sperimentale delle colonnine per la rilevazione della velocità. Un investimento complessivo di circa 60 mila euro e si comincerà con una dozzina di dispositivi. Bologna I carabinieri di Vergato hanno denunciato un 61enne italiano e un quarantenne marocchino per spaccio di droga. All'interno di un immobile avevano nascosto panetti di hashish per un peso di circa 500 grammi. Rimini Dopo lo sciopero nazionale proclamato per il settore degli appalti ferroviari lo scorso 20 luglio, le organizzazioni sindacali nazionali del settore hanno proclamato una seconda azione di mobilitazione per il giorno 24 settembre, con presidio alle stazioni di Rimini e Bologna centrale. E ora Andrea Zanzi con Tutto lo Sport. Grazie Ludovico e bentrovati su TR24 Sport. L'Italia del beach soccer ha conquistato uno storico titolo continentale battendo nella finale di Alghero la Spagna. Un trionfo che corona l'ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico coordinato da Massimo Agostini. Come sentiamo nel servizio? Può finalmente festeggiare Massimo Agostini. Il Condor ha infatti coronato il suo lungo percorso a livello federale nella nazionale di beach soccer con l'alloro più prestigioso, quello che gli azzurri del CT Emiliano del Duca si sono guadagnati agli europei di Alghero, vincendo ai rigori la finale con la Spagna. Sono state quattro partite impegnative, importanti, difficili, perché sono finite tutte le tre extra time e la finale ai rigori, perciò tutte partite combattute, però alla fine il risultato è meritato. La partita è finita 2-2, perciò i rigori si sono prolungati abbastanza, però alla fine il risultato, per quello che si è visto, è stato giusto. Una grande soddisfazione per noi, per i ragazzi che tanti anni che provano e soprattutto per la FGC che è il primo trofeo importante targato FGC, perciò questo è un bel riconoscimento. 13 gli anni trascorsi dall'ultimo successo continentale degli azzurri che fino a questa stagione si erano sempre fermati al bronzo. 2005-2018, questo è il secondo europeo che si vince, bella soddisfazione, già che non c'è un'Italia che vince, in questo periodo non c'era un'Italia che vinceva, il Bic ha portato una coppa in FGC, perciò è una bella soddisfazione. Il calcio e la Serie C ha grande rispetto per il Sutirol Luciano Foschi. Il tecnico del Ravenna è consapevole delle difficoltà che presenterà la prima stagionale al Benelli e ha voluto mettere in guardia i suoi giocatori alla vigilia dell'impegno contro gli altoatesini. Una partita difficile contro una squadra costruita per un campionato di vertice, quindi sicuramente una partita difficile come lo saranno tutte le partite di questo campionato, quindi dobbiamo essere bravi a tirar fuori il meglio di noi e a fare una prestazione sopra le righe se vogliamo fare un risultato importante. Giochiamo contro una squadra forte, lo sappiamo, però ci siamo preparati altrettanto bene. Mi aspetto che la mia squadra cresca, sia doppia che dal punto di vista tattico, tecnico, fisico, che cresca su tutti gli aspetti e che cresca di partita in partita, quindi dobbiamo assolutamente cercare di migliorare le nostre prestazioni, quindi migliorare la prestazione fatta col Gubbio, la dobbiamo migliorare col Sutirol e poi quella dopo e poi quella dopo ancora. Dobbiamo cercare di fare un percorso di crescita importante proprio perché se vogliamo togliersi delle soddisfazioni importanti. Il Sutirol ha tanti punti di forza, visto che è stata costruita per vincere, quindi dobbiamo stare attenti ai loro attaccanti che sono bravi, hanno una velocità importante, dobbiamo cercare di sfruttare gli spazi che ci concedono, essere bravi nei movimenti e soprattutto nell'attacco della profondità. Sarà Venturelli il main sponsor del Forlì in Serie D. Il club a Biancorosso lo ha ufficializzato nel corso di una conferenza in cui i galletti hanno fatto anche il punto sulle proprie ambizioni di vertice. Una prima maglia con i colori classici bianco-rossi, la seconda total black con inserti bianchi e quella del portiere in versione fluo. Saranno queste le divise del Forlì per tutta la prossima stagione, nell'anno del centenario. Una ricorrenza celebrata dalla scritta 100 anni di noi posizionata sul colpo. Sulle casacche spicca poi il logo della Venturelli. Nessuna sorpresa, l'azienda fa capo a Stefano Fabri, che fino a pochi mesi fa era presidente dei Biancorossi ed è rimasto partner privilegiato del Forlì FC. È inutile nascondersi perché il Forlì quest'anno è una società che mira in alto, c'è il Cesena che sicuramente ha delle potenzialità di partenza superiore alla nostra, ma noi ce la giocheremo. Infatti è anche uno dei motivi in cui perché ho insistito, ho voluto fortemente la main partner, il fatto che dopo aver realizzato lo stadio Cesena bisogna andare a spugnarlo. L'inizio di campionato è stato in effetti molto promettente. Il 3-0 rifilato alla prima stagionale a Lisernia rappresenta il punto di partenza ideale per le mire dei Biancorossi. La squadra è stata composta nel modo migliore, i risultati ci sono per adesso, cercheremo di mantenerli e vedremo un attimo se il campo ci darà ragione. È tutto per lo sport, grazie per la cortesa e attenzione. Arrivederci. Vediamo ora insieme le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Il fine settimana è iniziato con un tempo splendido su tutto il nostro territorio regionale e temperature da piena estate. La situazione andrà leggermente cambiando nelle prossime ore. La nuvolosità aumenterà per aria leggermente più fresca in entrata da est, che determinerà quindi un inizio di domenica piuttosto nuvolosa. Sulle pianure i cieli a tratti potrebbero risultare grigi, ma durante la giornata poi le schiarite torneranno a interessare buona parte della nostra regione. Le temperature minime saranno sempre decisamente alte, comprese tra 17 e più 20 gradi, mentre i valori massimi saranno in flessione di 3-4 gradi su tutto il nostro territorio regionale, quindi saranno comprese tra 25 e più 29 gradi. Ventilazione debole da est mare calmo. La giornata di lunedì inizierà con il sole, ma attenzione a possibili rovesci temporali nel pomeriggio e tra la sera e la notte, soprattutto da martedì, ci accorgeremo del netto calo delle temperature che subiranno appunto a cavallo tra le due giornate. Per quanto riguarda questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. È tutto per questa serata, grazie per averci seguito, l'informazione torna domani sulle nostre reti a partire dalle ore 8. A voi tutti un buon weekend. Infotec, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia, nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena. Da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.